Riuscirà il comune di Brindisi prima che l'estate finisca a riavere indietro le chiavi di Cala Materdomini, oltre che i locali liberi degli immobili dall'ormai ex concessionario, pare proprio di sì e sembrerebbe questione di giorni. Questo infatti è un passo quanto mai necessario per l'assegnazione del bene a un nuovo gestore e salvare l'estate 2024 a tantissimi brindisini che vorrebbero suffruire con i servizi della spiaggia libera. Stanno per scadere i cinque giorni dalla data di notifica dell'ordinanza di sgombero degli immobili che al momento però si presentano così. Porte ermeticamente chiuse, sporco, incuria e degrado. Si presenta proprio così il centro di ristoro del Lido Materdomini a Brindisi. Il braccio di ferro è iniziato dopo che l'ex gestore ha disatteso tutte le richieste e le diffide del comune. L'unico pagamento effettuato dal concessionario è relativo al 2022 ed è pari a 20.500 euro, metà del canone annuo. Il 10 maggio scorso, dopo l'ennesimo sopralluogo disatteso del gestore, il comune ha constatato che lo stabilimento necessita di interventi di manutenzione e non solo, ma che non può agire perché non in possesso delle chiavi del Lido, che nelle prossime ore potrebbe essere liberato dalla comune con un'attività di sgombero coattivo. L'ultimo disperato tentativo di ridare dignità al Lido pubblico della città, riqualificato e inaugurato solo nel 2021.